Grazie a tutti voi di questa mattinata importante, importante per me, per le cose che ho ascoltato, è importante perché è una mattinata di sensibilizzazione su un tema nuovo che l'Italia non ha ancora capito fino in fondo, cioè le opportunità che vengono offerte da tanti punti di vista con l'introduzione della norma dell'art bonus, che è una norma che risale nella sua approvazione a luglio del 2014, ma siccome in Italia si fatica sempre di più a distinguere tra le cose che vengono annunciate, quelle che sono realizzate, io ho capito con i mesi che molti pensavano, pur la norma essendo già in vigore, o che richiedesse regolamenti applicativi particolari, mentre la norma era autoapplicativa, oppure che fosse semplicemente un'intenzione, una proposta di legge. Poi dirò qualche numero, nonostante questa fase transitoria, come era inevitabile, i risultati sono stati molto importanti. Mi fa poi piacere essere a un'iniziativa come quella questa mattina, l'indomani, immediatamente dopo, una legge di stabilità che ha invertito profondamente la tendenza di questi anni. Sapete che le risorse che sono andate alla cultura, al ministero che dirigo attualmente, sono state dimezzate dal 2000 al 2013, cicli diversi, ma insomma il risultato finale è stato che nel 2013 la quota di bilancio rispetto al pilo, rispetto al bilancio dello Stato era esattamente dimezzata, si è interrotta la stagione dei tagli col governo Letta nel 2013-2014, l'anno scorso è stato un primo passo, quest'anno c'è stato un investimento forte nella cultura, come sempre capita quando c'è una notizia positiva scivola un po' via nel nostro paese, quando ce n'è una negativa occupa le prime pagine dei giornali, ma insomma è una significativa inversione di tendenza, numericamente e soprattutto dal punto di vista della scelta del sistema paese. Il bilancio del mio ministero è aumentato quest'anno rispetto all'anno scorso del 27%, siamo tornati sopra i 2 miliardi, era sceso sotto il miliardo e mezzo. Dentro questo aumento sono state fatte alcune scelte che io condivido e che dimostrano che non è una mia battaglia personale, ma è una battaglia di tutto il governo, in particolare voluta dal Presidente del Consiglio, che a differenza nei giorni successivi all'attentato di Parigi, quando naturalmente tutta l'attenzione era giustamente concentrata sulla sicurezza, anche nel nostro paese, però in quei giorni la scelta è stata metteremo un miliardo in sicurezza, ma per ogni euro che mettiamo in sicurezza mettiamo un euro in cultura, che mi pare davvero la sfida più forte che si può dare rispetto al terrorismo internazionale, contrastarlo, difendere, investire in sicurezza dei cittadini delle nostre città, ma contemporaneamente non accettare che vincano questa sfida della paura, perché la spinta è a far sfuggire il mondo occidentale dai luoghi in cui si vive la vita, dai luoghi in cui si sta insieme, dai concerti, dagli stadi, dai teatri, dalle piazze, dai musei, e quindi la sfida è veramente una sfida che cerca di tenere insieme queste due cose, la sicurezza oggi, ma anche un grande investimento sul futuro, quindi il 27% in più, dentro questo abbiamo fatto alcune scelte, dicevo prima l'assessore Mezzetti, alcune scelte privilegiando dei settori che sono stati più trascurati, più maltrattati, eppure sono i più importanti, quindi quest'anno io non ho aumentato le risorse al FUS, che è rimasto con la stessa cifra dell'anno scorso, lo dico dove si vive di FUS, ma ho messo una parte significativa di risorse sulle biblioteche, sugli archivi, sugli istituti storici, sugli istituti culturali che erano tutti ridotti alla fame, anche quelli di grande eccellenza, cioè quelli per cui il mondo ci guarda con ammirazione, dall'Istituto Centrale del Restauro, all'Opificio delle Pietredure, gli istituti privati che vivono di contributo pubblico, le biblioteche e gli archivi che vivono con risorse che sono 10-15 volte inferiori a quelle di altri paesi, abbiamo fatto un investimento in quel settore, perché naturalmente quando le risorse crescono è un dato importante, ma bisogna anche decidere dove investire. E soprattutto dentro la legge di stabilità ci sono due novità, una è che pur restando dentro un quadro complessivo che è di forte limitazione al turnover nell'assunzione della pubblica amministrazione, anche perché prima dobbiamo assorbire come ministeri il personale delle disciolte province, ma dentro questa regola generale che è rimasta per tutti c'è una deroga che dimostra il riconoscimento della specialità del settore della cultura, per cui noi potremmo assumere, lo sa bene Francesca Puglisi che ha lavorato molto su questo al Senato, potremmo assumere al ministero 500 persone, non con professionalità generica, ma con le professionalità di cui via via il sistema paese si è venuto privando, cioè storici dell'arte, archeologi, architetti, archivisti, bibliotecari, restauratori, demo et antropologi, cioè tutte grandi professionalità che hanno fatto la forza di questo paese, che via via non c'è stata la possibilità di farle entrare, per cui ho un'età media nel mio ministero ad oggi che è di 58 anni, ci sono centinaia, centinaia di giovani laureati con master, con professionalità straordinarie, che non trovano uno sbocco professionale nel nostro paese, con quei 500 posti, non è un numero simbolico, copriremo tutti i posti vacanti in pianta organica e il concorso verrà fatto nel 2016. E poi questa, l'indomani degli eventi più tragici del terrorismo, questa scelta di questa card per i diciottenni, naturalmente come tutte le cose innovative è stata criticata, è giusto che il dibattito ci sia sempre, ma insomma a me pare un grande segnale che in un paese che vive questa contraddizione da cui noi dobbiamo uscire, il paese che è così orgoglioso del suo patrimonio materiale e immateriale, culturale, e poi il paese in cui più degli altri negli anni è calato il numero di persone che leggono, il numero di persone che vanno al cinema, che vanno a teatro, che vanno nei musei, ci sono delle persone di tendenza che poi dirò, è quindi un investimento forte sui giovani che passa attraverso una parte educativa, stiamo lavorando molto quotidianamente con il MIUR, ma anche questa idea che un diciottenne riceverà una card di 500 euro a scalare, che potrà spendere esclusivamente in teatri, cinema, musei, concerti, acquisto di libri, beh capite che intanto, lo dico anche guardando il sovrintendente e il sindaco, la copertura prevista per questa norma è 290 milioni, quindi sono 290 milioni di incassi, non sappiamo esattamente come si distribuiranno tra cinema, teatri e librerie, ma comunque sono entrate certe e in secondo caso, naturalmente la cosa più importante, è un fatto educativo, si riavvicina al consumo culturale, è una risposta, si va nei luoghi in cui la vita si vive, non ci si richiude impauriti in casa, ma soprattutto statisticamente, come per esempio è avvenuto con quei numeri straordinari della Domenica e i musei, per cui la prima domenica gratuita del mese, ormai è un successo, siamo oltre le 800 mila persone ogni prima domenica del mese, che tra musei comunali e musei statali vanno a vedere un museo, sono in gran parte cittadini, famiglie che si riavvicinano al patrimonio culturale, una parte di quei ragazzi che userà la card, poi per tutta la vita resterà legata al consumo culturale e si innamorerà del teatro, si innamorerà della musica, si innamorerà della lirica, si innamorerà del cinema, quindi c'è anche un fattore pedagogico ed educativo che è molto più importante anche dello stesso vantaggio, quindi insomma un paese che ha deciso di investire in cultura e questa mi pare davvero una grande svolta, poi lo si farà via via in base a come saranno i conti dello Stato, quando saranno le risorse disponibili, ma c'è una scelta chiara in questa direzione e dentro questa cosa, sentivo l'esempio australiano, non è buttata lì questa operazione che stiamo facendo, ma è dentro una riforma complessiva del sistema, una riforma complessiva del Ministero che è in uno stadio avanzato, che punta nel nostro paese che ha così tanto investito sulla tutela del patrimonio e giustamente, e dobbiamo essere molto orgogliosi, la tutela dei nostri centri storici, il nostro patrimonio archeologico monumentale, dal punto di vista legislativo, dal punto di vista delle strutture che abbiamo nel territorio, a cominciare dalle sovrintendenze, ma adesso abbiamo deciso di investire anche in valorizzazione, quello che non abbiamo fatto negli anni passati, perché investire in valorizzazione vuol dire trovare le risorse per fare la tutela, vuol dire dare un contributo alla crescita del paese, attraverso la crescita del turismo nelle città d'arte, attraverso l'utilizzazione anche da un punto di vista dell'attrazione del paese, non soltanto delle grandi capitali conosciute in tutto il mondo dell'arte italiana, ma anche attraverso quella straordinaria forza che è l'Italia, un paese, un museo diffuso in cui la bellezza è dappertutto, in cui le potenzialità di attrazione turistica stanno in tutto il paese, dalle città d'arte ai borghi, al paesaggio, alle bellezze naturali, alla storia, al patrimonio immateriale, questa è la forza vera che noi dobbiamo mettere in campo e che dobbiamo mettere in campo sempre con più convinzione, sapendo, perché poi dopo un anno di governo ormai fra poco festeggi due anni, è il momento anche di rendere conto che i risultati stanno arrivando, anche qui siccome sono dati positivi sfuggono, questa settimana renderemo noti i dati della crescita dei visitatori nei musei dello Stato, sono numeri enormi, non li voglio anticipare, sono numeri enormi di crescita rispetto ad un anno, il 2014, il 2015 aveva già avuto una crescita enorme rispetto al 2014, finalmente dopo anni c'è stato un aumento nel 2015 quasi del 9% dei biglietti venduti nel cinema, c'è stato addirittura un aumento dei libri venduti dopo anni di calo precipice, in particolare nel circuito delle librerie indipendenti, quindi c'è un ritorno al consumo culturale che mi pare vada esattamente in una direzione di investimento, dentro questa cornice o fuori da, scegliete voi, ci sono i numeri fortissimi della crescita turistica e dei numeri dell'anno scorso, perché dopo anni di crisi, in cui il turismo internazionale in Italia è sempre cresciuto, ma è calato profondamente il turismo interno per le disponibilità delle famiglie italiane, il 2015 segna un grande ritorno del turismo interno in tutto il paese, ma segna anche ancora di più, non solo per Expo, una crescita forte del turismo internazionale, quindi investire in cultura significa adempiere al dovere costituzionale dell'articolo 9 sul nostro patrimonio, sulla nostra forza, ma significa anche dare un grande contributo alla crescita economica del paese, fare le due cose insieme, facendo credere che sono l'una contro l'altra, come in un dibattito molto ideologico è stato fatto credere per anni. La prossima settimana presenteremo con la SIAE, che ha commissionato un'indagine sulla forza delle industrie culturali creative nel nostro paese, prima veniva ricordato l'importanza nella regione Emilia-Romagna, i numeri della regione Emilia-Romagna, in Italia i numeri sono su questa traccia, è una forza strepitosa, che si vede poco, anche in questo caso perché è sembrato sempre questo tema, scegliere A o B, quando si può scegliere sia A che B, noi abbiamo immaginato che il nostro dovere sia soprattutto tutelare il patrimonio materiale e immateriale che ci hanno consegnato le generazioni venute prima di noi, certo che c'è quel dovere, ma c'è anche una forza strepitosa che nell'arte contemporanea, nell'architettura contemporanea, nei talenti, nello sfruttare questa stagione della storia dell'umanità per cui noi possiamo mettere insieme, offrire alla creatività italiana, alla forza straordinaria della creatività italiana, l'inizio dell'era digitale, la rete, la possibilità che il tuo prodotto, la tua idea, la offri al mondo, io stiamo lavorando su le app per gli smartphone, per i tablet, legati ai beni culturali e al turismo, ci sono start-up fantastiche con idee che insomma hanno delle potenzialità enormi di ragazzi italiani, quindi investire in industrie culturali creative non è alternativa, è complementare, eppure anche perché ci sono paesi che non avendo il nostro patrimonio culturale hanno investito sulle industrie culturali creative, penso al Regno Unito, l'hanno fatto diventare un fattore di attrazione turistica e un fattore di crescita economica, quindi noi possiamo fare tutte e due le cose insieme. Se questi sono gli obiettivi e le potenzialità, è chiaro che questo lavoro lo deve fare il pubblico, noi che siamo qua, i comuni, le regioni, lo Stato, ma deve essere il sistema che ci crede e ognuno deve fare la propria parte, abbattendo tutte le barriere sciocche, ideologiche, per cui insomma pubblico e privato si vedeva con una certa diffidenza la collaborazione in particolare nel settore della cultura che è un'assoluta sciocchezza e integrando le risorse, non sostituendole perché per la vastità del nostro patrimonio sicuramente le risorse private devono andare a integrare quelle pubbliche che devono essere sempre crescenti, ma questo è un paese che individua la propria vocazione, capisce che questa è un'arma formidabile nella competitività globale e ognuno fa la propria parte dentro una vocazione che il sistema paese individua che è appunto questa. L'art bonus è questa la parte più importante, c'è il vantaggio fiscale, concreto, questo non è stato detto, non è che tutti devono conoscerlo, ma l'art bonus che ha avuto dalla prima introduzione due successivi miglioramenti, forse ce ne saranno altri ma costano e ogni volta è naturalmente una battaglia con il Ministero dell'Economia, tant'è vero che di incentivi fiscali se ne parlava da 30 anni ma non si era mai riuscito di introdurli. L'art bonus è partito come 65% di credito d'imposta per due anni, poi sarebbe dovuto scendere al 50% nel 2016 per interventi sul patrimonio pubblico, cioè intervenire per recuperare un palazzo, un quadro sul patrimonio pubblico. Siamo riusciti in un primo passaggio a estenderlo alle fondazioni lirico-sinfoniche e ai teatri di tradizione, oltre che ai musei come era già nella norma iniziale, non per interventi sul patrimonio ma l'incentivo fiscale vale anche per il contributo. Adesso con la legge di stabilità l'abbiamo stabilizzato, cioè non è più la fase sperimentale, è il 65% non soltanto nel 2016 ma il 65% di credito d'imposta a regime. Vale per le imprese, vale per i privati, non ha tetto, vale per un euro e uno dei 3,65 centesimi, anche se è un po' scomodo far tutta la pratica per un euro, o vale per 10 milioni di euro. Quindi non ha limiti, non ha differenze tra private imprese, ed è semplice, vedete, quando io sento dire semplificatelo, io posso provare a semplificarlo, ma uno fa un'impresa o un privato, fa un bonifico sul conto corrente della istituzione a cui vuole donare quella somma, ci mette la causale e lo allega la denuncia di redditi con una graffetta e ha finito il lavoro. E se non mi pare molto complicato. Semmai il problema è un altro, è che il pubblico, in particolare le strutture del mio ministero, più che i comuni, non sono preparate culturalmente e organizzativamente a recepire in modo attivo queste donazioni e del lavoro che stiamo facendo, ma dal punto di vista del privato. Io lo dico perché ogni tanto non si usa questo alibi, si fa il bonifico e lo si allega la denuncia di redditi e il credito di imposta si sconta in tre anni, addirittura lo si sconta per le imprese anche dai versamenti mensili o trimestrali, quindi mi pare semplice. Poi si potrà allargare il futuro, ma insomma c'è un sito che è artbonus.gov in cui ci sono tutte le modalità, ci sono gli interventi che è possibile sponsorizzare, le aziende che hanno sponsorizzato, perché abbiamo voluto introdurre, dato che c'è una sostanziale diffidenza motivata, se io dono mie risorse sono poi sicuro che vanno a restaurare quel quadro, quel palazzo, vanno a quel museo o vanno in un calderone generale. Abbiamo messo un meccanismo obbligatorio per legge di tracciabilità, per cui puoi verificare che la donazione è esattamente per il motivo per cui l'hai dondata, sul sito artbonus.gov trovate queste indicazioni. I risultati sono stati risultati positivi, seppur in questa parte sperimentale, prima che partisse la campagna di promozione, che io ho fermato ed è partita non appena con la legge di stabilità abbiamo deciso di stabilizzarlo, perché non potevo fare una campagna promozionale senza sapere se sarebbe stato a regime e al 65%, forse qualcuno di voi l'avranno vista nelle pubblicità istituzionali sulle varie reti televisive, prima che questa campagna partisse nel 2015 sono stati 1426 donatori per 57 milioni, quelli che si sono registrati come prevede la legge sul sito. Io penso che quest'anno, abbasso la voce perché non sforeremo le coperture previste, quest'anno sarà l'anno dell'esplosione, perché vedo che c'è un interesse finalmente ed è l'interesse che io mi aspetto dalle grandi imprese e mi aspetto anche dai privati, perché la parte più importante, dicevo, non è quella fiscale, è quella pedagogica, educativa, questo paese che è così orgoglioso del suo patrimonio culturale, tant'è vero che ci aggiungiamo sempre delle percentuali più o meno il 70, 70, 80, tutte libere, sicuramente siamo il paese che al mondo ha il più vasto patrimonio culturale, ebbè bisogna, se siamo così orgogliosi, se siamo così orgogliosi del legame che c'è tra il teatro comunale e la città, tra il museo e il territorio, questa è una grande motivazione per fare, dire alle imprese, grandi imprese, medie imprese, piccole imprese, cooperative, mettetevi a un distintivo, io ho fatto questo per il mio paese, io ho fatto questo per il mio territorio, per il patrimonio culturale del mio territorio, il give back che c'è nella tradizione inglese dopo aver ricevuto, io devo restituire al mio paese, vorrei che fosse un elemento della valutazione dell'impatto sociale di qualsiasi impresa, quanto hai dato per il patrimonio culturale del tuo territorio, è una donazione questo, non sono sponsorizzazioni, ma se uno recupera il palazzo, o il museo, o il teatro, o il quadro, o la fondazione lirico-sinfonica della propria città, è chiaro che è un distintivo che si può mettere all'occhiello, e vorrei che la stessa cosa fosse per i cittadini, in Italia non c'è la cultura del crowdfunding, non c'è la cultura delle piccole donazioni, grandi musei nel mondo, quelli che guardiamo tutti, insomma dai musei europei che sono sostenuti anche da risorse pubbliche, ma hanno una grande raccolta di donazioni, ai musei americani privati, vivono all'incirca del 25, 20, 15, 30 di proventi, incassi, bookshop, servizi aggiuntivi, tutto il resto sono donazioni private, raccolte a 5 dollari, 10 dollari in tutto il paese, quella cultura del mecenatismo, della filantropia, è stata aiutata da incentivi fiscali, non è che è caduta dal cielo, ma è entrata profondamente nel paese, questo è il lavoro che bisogna fare, gli amici del teatro comunale, gli amici del museo, gli amici della pinacoteca nazionale, questo è il lavoro che bisogna fare, perché insomma anche, oltre che nel bilancio delle imprese, anche nelle scelte di vita ci sia, io ho donato compatibilmente con le mie possibilità, per il patrimonio del mio paese, che è il patrimonio dell'umanità, come dice l'UNESCO, e ho donato una somma piccola, grande, non importa, perché vado in quella direzione. Dentro questo, l'art bonus vale, dall'anno scorso, per le fondazioni liricosinfoniche, quando Andrea mi ha invitato ho detto vengo volentieri, perché il meccanismo insomma deve funzionare, e deve funzionare, lo dico rispetto a chi già, per esempio, donava, donava, dava un contributo al teatro comunale, se uno prima dava un milione o centomila euro, adesso può dare un milione e mezzo, centocinquanta mila euro, che gli costa uguale, non è che deve dare la stessa cifra di prima e prendersi tutto il vantaggio del beneficio fiscale, perché se no l'intervento io l'ho fatto a favore dei privati e non a favore dei teatri, io volevo farlo a favore dei teatri, e quindi è evidente che la richiesta di chi donava deve quantomeno aumentare dell'importo del beneficio fiscale, e non ha nessun costo aggiuntivo, mentre ce l'ha chi lo percepisce, è la donazione. Questo diciamo vantaggio, è un vantaggio che si inserisce in una scelta che il Paese ha fatto, che io voglio confermare, che è molto forte a favore della lirica, tant'è vero che quando ci si riunisce nei tavoli tutti gli altri, un po' mugugnano quelli che si occupano di prosa, di cinema, perché vi do delle cifre per capire, prima avete detto, naturalmente sono cifre importanti, gli importi del comune e della regione, solo sul teatro comunale di Bologna, l'anno scorso, lo Stato ha messo 10 milioni e 300 mila euro, più 14 milioni della legge brai, che è quella per le fondazioni lirico-sinfoniche in crisi, la somma delle 14 fondazioni lirico-sinfoniche è 183 milioni, cioè circa il 47, metà per cento dell'intero FUS, cioè in tutto il resto ci sono i 29 teatri tradizione, tutto il cinema, tutta la musica contemporanea, tutti i festival, tutta la danza, tutto il resto, quindi se si fa un investimento così forte, che è sproporzionato dal punto di vista dei numeri delle istituzioni, del numero del pubblico, è perché sappiamo che cos'è la lirica, cosa sono la lirica e la sinfonica italiana, che carta sono nel mondo, che strumento formidabile di identità, di riconoscibilità, sono in tutto il mondo, allora bisogna fare sistema e quindi come è stato detto e richiamato, giustamente l'ha detto Virginio e lo sottolineo, insomma tutto questo lavoro e queste risorse devono essere accompagnate da una gestione più possibile dinamica, il più possibile virtuosa, perché non impongono le regole del piano di risalamento della legge brai, ma perché è giusto far così, perché solo, e il secondo fronte è quello che io ho iniziato a ragionare e lo farò sempre di più, insomma per giustificare 14 fondazioni lirico-sinfoniche in Italia e delle risorse così forti, bisogna che questo faccia sistema, bisogna che sia una carta nel mondo, bisogna che i teatri facciano coproduzioni tra di loro, non concorrenza tra di loro, risparmiando, bisogna che ci sia un luogo unico in cui vendere i diritti della lirica italiana nel mondo, diritti televisivi, diritti sulla rete, bisogna che ci sia una sinergia, penso per esempio agli archivi di tutti i straordinari dei teatri, cosa vorrebbe vedere l'averli tutti digitalizzati e tutti insieme, bisogna veramente riuscire a far sistema, questo insomma è l'impegno che abbiamo messo, è l'impegno che so che state mettendo anche a Bologna, bisogna metterlo con molta convinzione, virtuosità nella gestione e reperimento delle risorse private, queste sono le due condizioni perché si possa continuare in un investimento di questo tipo, in cui è importante proseguire, perché insomma, e lo dico in particolare a Bologna, le potenzialità sono davvero straordinarie, l'abbiamo detto altre volte, so che questo è l'impegno dell'amministrazione comunale, l'impegno di Virginio adesso, per il futuro, davvero Bologna non è stata fino in fondo quello che potrebbe essere in termini di attrazione turistica e di riconoscibilità di capitale della cultura e dell'arte, ci sono tante, adesso fioriscono iniziative private, la fondazione Collinelli, ce ne sono tante altre, non le cito tutte, ma Bologna per la sua collocazione geografica, per il sistema di trasporti che è la condizione fondamentale per avere turismo internazionale e turismo interno, per il fatto di essere dentro un sistema su cui ragioneremo con la regione che è la forza formidabile del sistema delle città d'arte dell'Emilia, che nel mondo può essere venduto come sistema, perché nel mondo bisogna crescere la potenzialità dell'offerta per entrare nei grandi mercati del turismo internazionale, davvero le potenzialità sono straordinarie, ci lavorerete, sono convinto e lavorandoci io sarò con voi.